Contemporaneamente Chiara vince il secondo incontro sul tatami numero 4 e Tommaso comincia il secondo incontro sul tatami numero 6, incontro che registriamo. Bravo Tommaso, eh questa lotta eh, lotta all'inserente ma Tommaso è tutto un fascio di erno. Ok, anche la seconda ripresa, Tommaso è messa a terra agevolmente come sempre. Bravo Tommaso, bravi gli spazi miei, è particolarmente combattivo questa ragazzina ma ha sbagliato avversario. Bravo Tommaso, Tommaso. Doi i cammin, i cammini due. Ok, bravo Pommi S2 Congratulazioni da parte del maestro Ok Maestro S1 Cam 1 spento